La presenza dell'ex Lella fastidiosa nelle piantagioni di agrumi portoghesi, segnalata con grande allarme dalla Comità de Gestión de Citricos di Valencia, Spagna, e ripreso dalla stampa specializzata europea italiana, dimostra che su questo argomento noi del Consorzio Arancia-Rossa di Sicilia siamo stati purtroppo profetici. Lo afferma il Presidente del Consorzio, Gerardo Diana. Abbiamo più volte segnalato il pericolo costituito per l'agrumicoltura italiana dai patogeni e dai parassiti invasivi che costituiscono una minaccia enorme per le nostre culture. Le nostre richieste di attenzione troppe volte sono state ignorate. Adesso che la presenza dell'ex Lella fastidiosa è stata rinvenuta sugli agrumi in Portogallo, riteniamo essenziale la costituzione tempestiva di un tavolo permanente di regia a livello nazionale ed europeo, che includa le organizzazioni professionali di categorie e rappresentanti dei consorsi di tutela per far fronte a queste minacce. È urgente sapere quali saranno e quali misure intenderanno adottare l'Italia e l'Europa per prevenire l'arrivo dell'ex Lella in Italia e se saranno applicate alla Portogallo misure analoghe e immediate a quelle indicate dall'Unione Europea, a suo tempo, per la Puglia e i suoi Olivetti. Non c'è un attimo da perdere. I nostri rappresentanti politici ci supportino nel portare la questione all'attenzione del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e delle istituzioni europee. La minaccia è alle porte ed è tremendamente reale, conclude così il presidente Diana.